Applicare il modello Marchionne anche in Sicilia è l'ultima provocazione del governatore Rosario Crocetta che dopo aver parlato di trattative con l'Amarelli e di produzione di auto del Mediterraneo insieme agli arabi ora lancia l'idea di far rientrare la Fiat nell'isola. Tre proposte in tre giorni ma per il sindacato si tratta di idee un poco troppo fumose. Fortemente critica la Camera del Lavoro soprattutto sull'attuazione del modello Marchionne. Il modello Marchionne è fallito, la Fiat se ne sta andando dall'Italia, abbiamo le fabbriche chiuse con il modello Marchionne, abbiamo la gente con meno diritti e soprattutto abbiamo una corte costituzionale che ha spiegato che il modello Marchionne è incostituzionale. E' chiaro che nessuno si immagina a questo punto di poterlo riapplicare in Sicilia, quindi credo la prendo come un paradosso, una sfida nei confronti della Fiat. Il problema è un altro, che la Fiat se ne è andata dalla Sicilia. Il problema è che non c'è rispetto a Terminese nessun elemento di investimento reale, ancora non abbiamo capito quali sono i termini di questi investimenti. E il punto è che ci sono le istituzioni molto ferme. Io spero che nei prossimi due giorni esca fuori qualcosa al Ministero perché sono molto preoccupato di quello che sta succedendo. Ci sono molte chiacchiere, molte battute sui giornali, ma di concreto francamente non vediamo nulla e questo ci preoccupa perché rischiamo di chiudere una delle aree più importanti, industriali più importanti della Sicilia. E senza aree industriali noi non possiamo, l'economia siciliana non può andare avanti.